Presidente Saraiocco, un momento un po' delicato sul fronte sportivo, oggi però lei ci ha tenuto a fare chiarezza sulla posizione della società e su un progetto che comunque resta serio, coscienzioso e che guarda anche a una pluriannalità. Io faccio un lavoro che è un lavoro in queste stanze, non è un lavoro sul campo, io l'ho detto a Giulianova che penso che mi dispiace la situazione della classifica e ci sono episodi molto negativi, chiamarlo così è veramente il nome giusto, proprio sfortuna in alcuni episodi. Io penso che Giulianova oggi abbia vinto un campionato a quello di aver ritrovato una società, la società è il fulcro di quelle che sono le decisioni, la società filtra le decisioni che poi possono essere prese con accordi o con disaccordi, ma comunque c'è una società che oggi non si fa commissariare e decide per conto suo quello che sarà il futuro di Giulianova. Lei ha fatto questa conferenza stava anche perché si è sentito un po' toccato da una contestazione forte che ci è stata scoppita, cosa si sente di dire ai tifosi? Io ai tifosi gli ho detto tutto, come se fossero persone che hanno a necessità il diritto di sapere le cose come sono avvenute dopo che ci sono state e ho fatto un sunto di quello che è stato il mercato, di quelle che sono state le difficoltà di Giulianova e quello che abbiamo potuto fare. Speriamo che in quest'ultima partita sono i 12 finali e che questi 12 finali possano raggiungere il primo obiettivo, quello della salvezza, che la categoria è una cosa importante, ma questo non significa che fa paura parlare di eccellenza, io non lo voglio dire ma saremmo qua lo stesso in questa società anche a parlare di eccellenza. I tifosi li imputano un mercato non all'altezza della situazione e il cambio della panchina, su questi aspetti cosa si sente di dire? Secondo me è un mercato all'altezza di una società seria, è un mercato all'altezza di una società che negli anni precedenti hanno fatto dei macelli e che quindi è giusto che oggi sul mercato che non è un mercato di promozione di eccellenza, è un mercato nazionale, i giocatori fra loro parlano e noi dobbiamo essere in grado di dargli le risposte concrete, con serietà ed essere persone e società seria. Grazie.